Per me il cliente è una persona che viene seguito dall'inizio alla fine durante tutte le fasi e i procedimenti di manutenzione del veicolo. Oggi siamo a Buia, in evidenza con l'autofficina Lobo Fabrizio. Ciao Fabrizio, come stai? Benissimo, tu Poma? Io sto benissimo, adesso sono curioso di capire intanto dove siamo. Allora, ci troviamo a Buia, in via Villa numero 3. C'è stata un'evoluzione nel mondo dei motori, nel mondo dell'elettronica, io so che tu ti sei specializzato nei cambi automatici. Sì, esatto, io ho intrapreso già da 5 anni un percorso con appositi corsi di formazione inerenti al cambio automatico, quindi dalla revisione del cambio a tutto quello che riguarda soprattutto la manutenzione del cambio automatico, perché ogni cambio automatico richiede una manutenzione preventiva che spazia a intervalli di 60.000 km tra una manutenzione e l'altra, quindi va sostituito il lubrificante del cambio e i rispettivi filtri. Abbiamo un nuovo tipo di macchina dedicata proprio alla manutenzione del cambio automatico che permette di sostituire per intero tutto l'olio che è presente nel circuito, perché normalmente quando si va a fare un service di un qualsiasi cambio automatico andando a svuotare l'impianto tiene 9 litri, nel momento che si va a svuotare l'impianto fisicamente si riesce a malapena a svuotarne 4. Qui entra in gioco la stazione di rifornimento del cambio tramite l'attivazione delle elettropompe, fare una sostituzione totale di tutto il quantitativo dell'olio che rimanerebbe altrimenti nel cambio. Abbiamo anche delle specifiche stazioni per poter fare la ricarica del gas dai climatizzatori. Queste stazioni qua si dividono in due tipi, una stazione con un gas che è quello più diffuso sui veicoli in circolazione, diciamo il 90% del parco circolante e poi già da un po' di anni è entrato anche nel mercato un nuovo tipo di gas che è stato formulato per abbattere le emissioni inquinanti legate anche all'effetto serra. La tua officina è una tua officina multimarca? Sì, esattamente, è un'officina multimarca, quindi partiamo dalla manutenzione classica, quindi tagliandi, sostituzione pastiglie freno, ammortizzatori, tutto quello che riguarda la meccanica e più abbiamo anche un servizio di elettrauto principalmente. Anche perché le macchine, lo ricordiamo, sono sempre più elettroniche? Richiedono sempre più sistemi diagnostici avanzati per poter riuscire a completare anche delle semplici operazioni che riguardano per esempio il service. Tra tutti i servizi che hai ai tuoi clienti c'è anche quello delle gomme? Sì, allora noi abbiamo la vendita di pneumatici estivi, invernali e all season, quindi seguiamo anche tutta la parte del montaggio delle gomme, abbiamo un servizio di riparazione pneumatici in caso di foratura, quindi possiamo andare a fare la riparazione dove possibile del pneumatico danneggiato. Fabrizio, so che questa attività la condividi al 100% con una grandissima donna. Sì, allora l'attività è condivisa con la mia collaboratrice, tra l'altro mia moglie anche che mi segue ormai da tanti anni e che mi ha dato anche diciamo molti molti sproni nel momento in cui ho deciso di intraprendere questo cammino. Un vero capofficina proprio, eh? C'è stato molto incoraggiamento anche da parte sua e da parte anche di tanti clienti che ci scelgono. Cos'è parte del cliente? Per me il cliente non è solo un numero, ma è una persona che viene seguito dall'inizio alla fine durante tutte le fasi e i procedimenti di manutenzione del veicolo. Senti Fabrizio, quando possiamo venirti a trovare? Allora, noi siamo aperti dal lunedì al venerdì, dalle otto e mezza a mezzogiorno e dalle due alle sei. Sempre meglio prenotare? Sì, esatto. La miglior cosa è sempre fissare un appuntamento o telefonicamente o tramite i nostri canali social o tramite mail o direttamente sul sito dove c'è tutto specificato. Cosa dobbiamo dire alle persone che ci stanno guardando? Perché devono sceglierti? Per la velocità del servizio con la riconsegna del mezzo in giornata.